Oroscopo del giorno, giovedì 24 novembre 2022 Ariete Amore, per questa giornata avrete una buona posizione di venere in vostro favore. Il pianeta dell'amore vi renderà il giovedì piacevole in coppia oppure con una nuova conoscenza se siete single. Lavoro, Mercurio attivo in vostro favore vi donerà una marcia in più molto importante sul posto di lavoro. Toro, amore, per questa nuova giornata avrete una posizione di venere veramente buona per voi e i vostri rapporti. Sia le relazioni sentimentali che le nuove conoscenze potrebbero avere delle emozioni speciali oggi. Lavoro, Mercurio vi aiuterà ad andare avanti con i vostri progetti professionali e a credere nei vostri obiettivi. Gemelli, amore, le tensioni con il vostro partner saranno abbastanza forti perché purtroppo venere sarà in opposizione. Un certo nervosismo potrebbe farsi sentire pure per chi è single e vorrebbe avvicinarsi a qualcuno. Lavoro, anche Mercurio sarà in opposizione per oggi. Fate attenzione sul posto di lavoro. Cancro, amore, bellissima la posizione di venere per questa nuova giornata di fine novembre. Per l'amore questo sarà un giovedì pieno di emozioni e passioni. Tutto ok sia perché ha un partner e sia per chi ancora non lo ha. Lavoro, con Giove in una posizione favorevole sul posto di lavoro non avrete intoppi e potrete continuare a dare il massimo. Leone, amore, il pianeta dell'amore sarà in una posizione decisamente attiva per voi e non vi deluderà nei rapporti. Venere interverrà in modo positivo sia per le relazioni che per quei single che sono in attesa di fare nuove conoscenze. Lavoro, professionalmente questo sarà un giorno abbastanza tranquillo grazie a delle stelle piuttosto buone. Vergine, amore, niente passi in avanti con il vostro partner perché il pianeta dell'amore sarà poco favorevole per oggi. Neanche perché single arriveranno degli incontri troppo importanti al momento. Lavoro, male al lavoro perché Giove sarà in opposizione e Mercurio non vi favorirà per niente. Bilancia, amore, venere vi sorriderà ma soprattutto vi sosterrà al massimo durante questo giovedì di fine mese. Sarà proprio una giornata piacevole per l'amore e per chiunque di voi abbia voglia di godersi una bella emozione. Lavoro, occasioni, novità, risultati e sorprese sul posto di lavoro. Oggi sarà proprio un giorno interessante. Scorpione, amore, la congiunzione di Venere oggi non ci sarà. Questo aspetto sarà negativo per i rapporti e potrebbe portare delle conseguenze poco piacevoli in ogni tipo di rapporto, quindi attenzione. Lavoro, oggi non avrete la congiunzione di Mercurio ad aiutarvi con i vostri impegni di lavoro. Occhio a qualche piccolo possibile imprevisto. Sagittario, amore, per questa nuova giornata di fine mese ci sarà la congiunzione di Venere nei vostri confronti. Il pianeta dell'amore non farà altro che portarvi delle buone nuove in amore o nelle nuove conoscenze. Lavoro, le stelle vi permetteranno di affrontare bene gli impegni di lavoro per questo giovedì. Bene così. Capricorno, amore, non potrete contare su una buona posizione di Venere per questa giornata, quindi dovrete provare a fare più attenzione. Sia in coppia che da single si intende. Lavoro, Mercurio sarà in bel aspetto per oggi e vi accompagnerà durante la vostra giornata lavorativa odierna. Acquario, amore, per la giornata di oggi ci saranno delle buone nuove in amore e delle situazioni piacevoli niente male. Sia per i single che per le coppie sarà proprio un giovedì molto interessante per i sentimenti. Lavoro, sarà possibile ottenere delle risposte e dei risultati buoni sul posto di lavoro. Potrete ringraziare le stelle. Pesci, amore, Venere dovrebbe essere in una posizione abbastanza fortunata per oggi. Non ci saranno delle problematiche in coppia ma anzi tutto dovrebbe proseguire abbastanza bene e varrà così anche per i single. Lavoro, dove sarà in congiunzione per voi e per il vostro lavoro. Potrete continuare ad impegnarvi con i vostri progetti professionali. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti.